Si ripropone anche quest'anno il premio letterario internazionale Sicilia Cornice di Senso, giunto alla sesta edizione. La manifestazione, organizzata dal liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero VII di Caltanissette, in collaborazione con diverse realtà universitarie, associative ed editoriali, compreso il comune Nisseno, si rivolge agli studenti del secondo biennio e quinto anno degli istituti secondari di secondo grado, studenti delle equivalenti scuole superiori italiane all'estero e del primo anno di università. Ai giovani che frequentano il liceo Ruggero VII è stato riservato invece un concorso parallelo. I ragazzi e le ragazze che parteciperanno avranno a disposizione quattro ore per sviluppare un testo di scrittura creativa in contemporanea il 16 marzo 2022, a partire dalle ore 10 e persino a distanza perché le prove si svolgeranno nelle scuole di appartenenza, sulla base di una sollecitazione come un video, un'immagine, un brano legato alla Sicilia e inviato dalla scuola organizzatrice. I dieci racconti che verranno scelti da una giuria interna permetteranno agli autori di partecipare alla fase finale nella seconda metà di maggio insieme al vincitore tra le scuole estere e sarà poi una giuria d'eccellenza a decretare i migliori testi. Nel caso degli studenti del liceo Ruggero VII, un'apposita giuria valuterà e selezionerà i tre racconti migliori, i cui autori entreranno a far parte della giuria d'eccellenza, ma soltanto il primo otterrà il premio speciale Filippo Collerone, sostenuto dalla famiglia in memoria del figlio.